Se ci dovessero essere nulle, le cose le faccio a parte, le metti da parte, le cose le mettete da parte Le apriamoli tutte, fanno contestuali o no, se no vanno scevistie Passatele a me, le apri, le vedi e le vedi, non ci vuole dire da vederle Facetevi ognuno i gruppi davanti a sé e poi le mettiamo insieme, boccia con boccia Ho già fatto una proiezione Grazie, grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.